Ok, ben ritrovati a tutti i miei discepoli Oggi parliamo di impostazione primaria Cerchiamo insieme di capire come si valutano i nostri materiali Quelli di bonsai che compriamo, che ne so, in un vivaio Quindi materiali di poco conto E quindi come trasformarli in piante che possono essere anche rivendute A un valore anche 5, 6, 10 volte di più Allora abbiamo un bosso Quindi materiale da vivaio Come valutazione, cosa dobbiamo vedere subito? I pregi e i difetti E anche l'essenza della pianta Allora qui come difetti ragazzi abbiamo una pianta che ha un tronco molto molto cilindrico Cosa significa? Che è rotondo, che non ha continuazione, che non va su a stringersi per creare poi dopo conicità E' anche molto controconico, come vedete si sviluppa che la base è molto stretta rispetto poi alla parte alta della pianta Si va a dividere quasi come a creare una biforcazione antiestetica, anti-anticonica Mancano molti dei rami bassi, anzi non ce n'è neanche uno Quindi veramente problemi molto grossi per questo materiale Che così com'è è assolutamente inutilizzabile Non ha dinamicità, quindi un palo dritto con questo pezzo di pezzi di rami attaccati non ha senso E soprattutto ragazzi non ha il piede, quindi veramente difettoso Pianta dal valore 10 euro, non tanto Cosa si fa in questi casi? Si valuta subito un cambio di inclinazione Si valuta la pianta, com'è il piede, come si sviluppa e soprattutto dove partono i possibili primi rami Abbiamo visto che a sinistra abbiamo già il primo ramo, abbiamo inclinato tutta la pianta verso questo ramo qui Per farsi di dare più dinamicità, conicità alla pianta Perché dopo andiamo a creare tutta la pianta col nuovo ramo lì sopra Come continuazione di nuovo tronco e apice E facendo così abbiamo un'impostazione molto più semplice E soprattutto abbiamo anche un nuovo piede della pianta E anche un possibile punto focale Quindi quello shari che era molto difettoso Tipo controconico, cilindrico Lavorandolo poi diventerà un possibile punto focale Così la pianta ha più piede e soprattutto ha possibilità di triangularità Come impostazione primaria come vediamo abbiamo un nuovo stile Una pianta che risulta molto molto compatta Più triangola, più triangularità scusate E soprattutto con questa impostazione abbiamo un aumento vertiginoso di carattere della pianta E quindi anche valore economico e valore economico nei prossimi anni Praticamente questa pianta viene costruita con due rami e basta Il primo ramo che è la continuazione di quel ramo grosso che è inclinato Comunque prende triangularità e prende anche bassezza e forza E più quel ramo che era attaccato prima che semplicemente diventa tutto quello che rimane Che deve essere costruito poi come tronco e come apice Considerazioni finali Allora così abbiamo un miglioramento esponenziale di anno dopo anno Quindi una volta fatta l'impostazione primaria Ragazzi in questo modo se è corretta la pianta da 10 euro Già dopo un anno e due anni la vendete tranquillamente 250-300 euro materiale come questo Quindi grande valore aggiunto Valore anche per quanto riguarda il percorso da seguire dopo Perché una volta che abbiamo costruito la struttura primaria Semplicemente dobbiamo proseguire il lavoro svolto Dobbiamo più inventarci niente Dobbiamo soltanto riempire quello che abbiamo Ed è molto semplice con fronte a fare una prima impostazione Quindi aumento del valore economico E pianta pronta per la maturazione e rifinitura Quindi un'impostazione fatta bene ci porta nella strada percorribile in 2-3 anni Quindi nel miglioramento totale della nostra pianta Ovviamente a fatto che sappiamo coltivarla Altra pianta quindi altro esempio Abbiamo un cegliegio da vivaio Un'altra pianta che trovate in un vivaio Valore commerciale 10-15-20 euro Non lo so, roba da poco Come possiamo vedere è un palo dritto Con rami soltanto alti quindi stile fionda Praticamente se gli mettiamo un elastico questa pianta diventa una fionda Possiamo tirarci i sassi Quindi problemi su problemi Nessuna dinamicità Quindi un palo con una biforcazione Non c'è un proseguimento per il tronco Abbiamo questo tronco tagliato di netto con due rami Anche qui cambio di inclinazione Questo perché aumenta la dinamicità della pianta La femminilità, la sinuosità Il ramo sinistro diventa il nuovo apice Quindi il nuovo continuamento, continuazione del tronco Che verrà usato per costruire tutta la pianta E il secondo ramo, quello a destra, verrà potato Per andare a creare semplicemente il primo ramo Nulla di più Che quindi tutta la pianta verrà costruita Con quel ramo a sinistra Che andrà su Quindi inclinando la pianta Semplicemente abbiamo l'opzione migliore Per creare un ramo che continua il tronco L'impostazione Come possiamo vedere La pianta verrà creata tutta con il ramo di sinistro Come abbiamo già detto Il ramo destro serveva soltanto per il ramo primario Come possiamo vedere ragazzi Così la pianta ha acquisito Femminilità, dinamicità E sembianze di albero Ok? Altro esempio Altra materia da vivaio Si tratta di un acero Acero palmato Difetti Presenza di due rami usati come apice Lassù in alto Quindi non va bene Solo uno deve andare su Rami bassi che si alzano troppo Quindi entrano anche in competizione Anche questi Con l'apice Devono stare sotto E soprattutto mancano dei rami di profondità Perché fare una bella potatura? La pianta deve essere stimolata Per creare nuovi rami più in basso Soprattutto interni Devono accorciare uno o due rami Quelli in apice Per andare a creare Un apice solo E soprattutto rami di profondità Come abbiamo detto L'inclinazione come potete vedere È corretta Questa è una pianta che non va Cambiata l'inclinazione Perché come stile È il suo Nulla da Molto più semplice rispetto Il bosso Ok? Molto 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 Impostazione primaria Stile, eretto, informale Quindi pianta dritta Con il suo bel piede È una figura più slanciata Femminile Più ramificazione Ordinata Soprattutto ritmica Ok? Che si valorizza Col tempo E soprattutto Si valorizza molto Anche il piede Della pianta Come potete vedere ragazzi È molto molto semplice L'importante in questo caso È andare a creare Dei rami che stanno sotto Che sono più grossi E più larghi Ok? Per dare triangularità Ciò che conta Qui ragazzi È semplicemente Creare tutti quei rami Destra e sinistra Che danno Continuità E ritmo Alla ramificazione Spero di essere stato d'aiuto Ci vediamo Domenica Per analizzare Queste foto In live Insieme a voi Ho appena creato Un nuovo pacchetto Sul sito Che si chiama Servizio Virtual CB Dove posso aiutarvi A costruire le vostre piante A distanza Così mi mandate Le vostre foto E vi do Tutte le direttive Giuste Per andare Poi a trasformare Le vostre piante Da vivare Da 10 euro In piante Del valore Da 100 200 300 euro Ok ragazzi Ci vediamo Mi raccomando Domenica Alle ore 21 Nella live Tutte le domeniche Ok? Nuova piattaforma Andiamo a sviluppare I progetti Insieme Adesso E soprattutto Ragazzi Mandatemi Le foto Delle vostre piante Così ogni domenica Ci prendiamo Un'ora Per fare Uno Due O anche tre Virtuali In live Così andiamo A analizzarli Andiamo A creare Le strade Giuste Per migliorare Il nostro Pianto Ok? Un saluto A tutti Ciao a tutti Ragazzi Statemi Bene Mi raccomando Ci vediamo Domenica Chi avesse bisogno Di un virtual Mi scriva In privato Mi mandi Già le foto Così intanto Valutiamo E poi Se avete bisogno Prendete E acquistate Il pacchetto Sul sito Ok? Ciao a tutti Grazie mille Grazie mille